squish, swirl, tumble, sicuramente avrete già sentito parlare di queste cose ma che cosa sono? oggi lo scopriremo allora fra partiamo da quello che forse è più noto e che c'è un po' su tutti i motori endotermici che sarebbe l'effetto squish a volte ed erroneamente si parla di squish per definire invece per indicare l'altezza di squish che è un'altra cosa ma l'effetto squish si chiama così solo perché è un termine onomatopeico quindi squish sarebbe il rumore che il gas dovrebbe fare insomma potrebbe fare preso tra il cielo del pistone e la corona di squish quindi schizzando velocemente verso il centro della camera di scoppio squish qualcosa del genere vabbè a parte l'onomatopea insomma è un effetto che si sfrutta per velocizzare la combustione quindi promuovere una turbolenza benefica nella camera di scoppio un veloce rimescolamento dei gas verso il centro che facilita il propagarsi del fronte di fiamma come al solito sono cose importanti perché il fine è di poter dare il minor anticipo possibile per ottenere ugualmente la massima potenza di espansione pochi gradi dopo il punto morto superiore è sempre tutto qui la famosa medicina ecco l'anticipo è quella medicina le cui controindicazioni però bisogna il più possibile evitare quindi bisogna dare il meno possibile fare in modo di doverne dare il meno possibile ci sono anche dei valori oltre il quale poi questo effetto non si manifesta comunque c'è un'influenza allora i valori ottimali sono da poco oltre il millimetro millimetro e due millimetro e tre fino a 0,7 mai meno di 0,6 in ogni caso anche anche nei motori a quattro tempi in cui magari la corona di squish è solamente parziale perché chiaramente ci sono le valvole però non ci si deve mai arrivare sotto perché altrimenti anziché avere un effetto benefico si ha una promozione dell'auto accensione perché comunque a prescindere dalla lunghezza della biella l'incremento di compressione per grado di rotazione in prossimità del punto morto diventa intollerabile questo è il motivo per cui e poi c'è anche diciamo un allungamento di materiale a caldo che potrebbe cioè ridurre poi questo squish quasi a zero quindi ah sì sì anni fa leggevo ho letto su su motociclismo mi pare o mototecniche forse di moltissimi anni fa roba degli anni 90 che su motore guzzi 1000 bicilindrico preparato passarono alle bielle in titanio perché avevano visto che con le bielle originali lucidate che pure resistevano alle sollecitazioni lo stiramento il rilascio ad altissimo regime era di 0,5 mm circa che sono valori a dir poco impressionanti e che in cicli ripetuti così quindi anche per quello non bisogna avvicinarsi ma in ogni caso a prescindere da ciò lo squish sarebbe addirittura controproducente l'altezza di squish inferiore se invece è superiore ai valori che abbiamo detto quindi sopra il millimetro 3 millimetro e 4 non parliamo di arrivare neanche di arrivare a 2 mm l'effetto è pressoché inesistente quindi quella turbolenza benefica viene a mancare l'effetto squish svanisce l'effetto squish si trova sia sui motori a quattro tempi che quelli a due tempi come abbiamo detto però invece c'è lo swirl che c'è soltanto su quelli a quattro tempi sì è un effetto che si sfrutta in particolare nei motori a quattro tempi e consiste in una in un moto vorticoso il cui centro è parallelo all'asse dell'asse del cilindro quindi se il cilindro è questo un moto più o meno così che viene provocato favorito dalla conformazione del condotto di aspirazione e da eventuali piccoli incavi sulla testa in prossimità della valvola di aspirazione alcune teste ce l'hanno ne abbiamo parlato ne abbiamo anche parlato la testata della 112 abbar si differenzia dalla quella della normale 127 proprio per la presenza di questo incavo che favorisce l'effetto swirl chiaramente è un effetto che promuove nel cilindro quelle turbolenze che invece devono essere evitate il più possibile nei condotti quindi il moto nei condotti non deve essere turbolento perché la turbolenza rallenterebbe il flusso nei condotti stessi mentre invece la turbolenza è molto benefica nel cilindro perché più il gas si rimescola velocemente più la commistione tra combustibile e combustibile diventa intima e più il fronte di fiamma avanza velocemente sempre con le benefiche ricadute sull'anticipo di cui abbiamo detto prima e poi dopo aver parlato dello swirl c'è il terzo fenomeno che si chiama tumble io prima ho detto che è soltanto lo swirl che è presente solo sui motori a quattro tempi ma di fatto anche questo effetto tumble c'è oggi solo sui motori a quattro tempi che cos'è e perché c'è solo sui motori a quattro tempi oggi intanto che cos'è è un moto turbolento che si svolge su un asse ortogonale a quello dello swirl cioè il tumble ha l'asse intorno al quale il moto turbolento si verifica che è ortogonale all'asse del cilindro e si aveva sui due tempi arcaici quelli in cui il pistone era munito di deflettore per cui spingeva il gas verso l'altro che tra l'altro in quel caso era usato anche per favorire un po' il lavaggio e scacciare questa nuvola di gas combusti che con un solo travaso non se ne riusciva ad andare dove doveva si chiamava afflussi tangenziali esatto ora nei motori a quattro tempi allo stesso modo viene usato come lo swirl con una forma apposita dei condotti per promuoverlo e ha lo stesso scopo insomma si cerca in vario modo di favorire una turbolenza che anche se è un anche essa aiuta a velocizzare la combustione in conclusione diciamo qualche informazione aggiuntiva e corollaria ma non rilevante cioè specialmente nei motori a quattro tempi la forma del cielo del pistone è legata anche ad altri fattori ma interferisce con questi movimenti dei gas questi movimenti turbolenti che vengono ricercati ora è chiaro che un pistone molto molto bombato potrebbe anche disturbare un po' il tumble almeno quando poi si avvicina la testata c'è da dire che i pistoni molto bombati sono quasi spariti ormai perché venivano usati su motori di parecchio tempo indietro che magari avevano le valvole molto a v e quindi la testa molto poco raccolta e il pistone bombato serviva specialmente sui motori preparati quindi pistoni come quelli dell'Alfa Romeo che già sono bombati di loro venivano sostituiti con pistoni ancora un po' più bombati in caso che il motore venisse elaborato per riuscire a ottenere un rapporto di compressione superiore tuttavia questo artificio sporcava poi parecchio la forma della camera di scoppio adesso si va in un'altra direzione la testa si stringe e i pistoni difficilmente sono bombati chiaramente anche nei due tempi di una volta quando veniva sfruttato questo effetto tumble però il pistone aveva una forma disastrosa da un punto di vista dell'efficienza della camera di scoppio non c'era squish non c'era niente quindi c'era questo effetto che serviva a lavare i gas un po' meglio però a caro prezzo tra l'altro questo mutamento sempre tornando al discorso dell'anticipo ha consentito progressivamente ai motori anche spinti di funzionare con valori di anticipo sempre più bassi davvero in chiusura vi cito un piccolo così un aneddoto un episodio che mi è capitato tempo indietro insomma il papà di un mio amico mi aveva chiesto di andarlo a trovare perché c'era una vecchia una vecchia Ermacchi moto monocilindria a quattro tempi di tanti anni fa che insomma si lamentava che in accensione spesso che aveva la leva di avviamento gli dava dei calci poterosi ma io poi non avevo esperienza però ho visto il libretto che ancora aveva il libretto di uso e monotensione dove era riportato il valore di anticipo anticipo fisso di oltre 40 gradi bisogna tenersi il calcio chiaramente perché la dose della medicina allora siccome non aveva anticipo dinamico era già nel motore a quattro tempi l'anticipo aumenta col salire dei giri quindi c'aveva un anticipo adatto ai regimi medio alti però te lo tenevi anche regimi bassi e chiaramente avviare un motore che ha un anticipo di oltre 40 gradi nel momento in cui l'avvi è facile che dia se non sei se non dai una spinta proprio poderosa è facile che dia un calcio anche anche rilevante ecco è naturale perché parte indietro e qui chiudiamo treno in transito al binario 1 allontanarsi dalla linea gialla attenzione white one racing non è un'officina se ti piace quello che hai visto metti like al video condividilo con i tuoi amici e abbonati l'abbonamento permette di accedere al gruppo segreto dove sono raccolti numerosi testi di metanica e motori grazie 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 grazie